Presidente, finalmente la troviamo. Presidente, la popolazione è contro Villa Service, noi la stiamo cercando da oltre un mese, come mai lei non risponde? Presidente. Non è il momento, ti ho detto di lasciarmi. Non è il momento di distruggare. Eh, ma lei ha un ruolo di responsabilità. Eh, ma noi la stiamo cercando, noi. Basti andando, mi mangiate cazzo, le mani è fuori. La cazzo, non lo faccio sto proprio sento con me, è deficiente. Oh, so fuori. Oh, è dato un colpo, mi ha dato, eh. Scusa. C'è suo? Sì, sono. Ma c'è? Sì, sono. C'è suo. Ma tu? Ma c'è il pallone, il giro e il giro. E tu? Perché tu hai letto sove con te, eh? Devi stare a sereno. E son sereno, son sereno. Son sereno. Non sereno. Mi ci leggo, sott'è. Ma tu sei. Ma tu sei. Ogni volta. E tu cosa mi giro? Ma tu sei il giro? Eh? Scusa, come? E io. Cosa stai riprendendo tu? Scusa un po' Cosa mi stai riprendendo? Mi stanno perquisendo Che cazzo stai riprendendo? E allora? O li basterà? O li basterà? O li basterà? Lei l'ho vista quando stavo facendo le immagini dell'impianto E' lei quello che usciva e bevita? E' meglio che non mi bella E' lei che li bestellava quando facciamo arrivare? Non vederli Tagli attento, non vederli Tagli attento, non vederli Tagli attento, non vederli